Si svolgono sabato alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ponte in Valtellina i funerali di Cardeglio Sertori, storico presidente della STPS, spentosi all'età di 92 anni. Sertori è stato per quasi mezzo secolo figura chiave del sistema di trasporto pubblico in provincia. Dopo aver lavorato per oltre 30 anni come autotrasportatore, nel 1976 ha assunto la carica di amministratore delegato della nonata società Trasporti Pubblici Sondrio, costituita per volontà degli enti locali della provincia con l'obiettivo di garantire il trasporto pubblico di persone. Ha seguito l'abbandono del servizio da parte dei concessionari di allora. Nel 2001 è divenuto presidente e consigliere delegato alla stessa SPA pubblica. Tra le altre cariche ricoperte è stato dal 70 al 76 presidente provinciale autotrasportatori e consigliere nazionale della categoria. Dal 78 è stato consigliere regionale dell'autorità anticorruzione, dal 91 componente del collegio Proviviri di Assolombad Trasporti. La camera ardente è allestita presso la casa di riposo di Ponte.